se ci prendi la mano però secondo me ci stai lo stesso tempo dai cocco facciamo una ho 29 di batteria dai quanto siamo? pronto? quando vuoi? 10 giri dai vai pronti partenza via 1 e 2 no cazzo no massimo non ti lascio il passo sì è tanto vedi come se stai facendo il passo ma quanto è perso? 2 2 no è morto abbandono per batteria ma scusa io la mia perché l'abbiamo caricata insieme e mi sa che tra un po' la tua ma non vale indietro mettiamoli in carica sì no per forza non metti niente